C'è stato un congresso importante, io non ho ascoltato, credo che oggi interveniva il presidente Mattarella, sono tornato prima per ragioni di ufficio, è stato importante perché comunque i sindaci hanno ribadito l'orgoglio e la fierezza con cui cercano di amministrare nei loro territori in un momento difficile senza risorse. Sono venute fuori anche sensibilità diverse, non solo sulla vicenda Marino ma anche nel giudizio del governo, perché sicuramente grazie alle battaglie dei sindaci, allo stesso governo Renzi che sinora nulla aveva fatto nei confronti delle autonomie locali, nella legge di stabilità ha dovuto prendere atto del muro di resistenza dei sindaci e quindi ci sono delle nostre proposte e dei punti che hanno trovato breccia nella legge di stabilità. Continua però sia sulla città metropolitana e sia sul resto delle questioni l'amarezza di dover constatare che tutto quello che abbiamo raggiunto, io ho parlato ovviamente soprattutto di Napoli per quanto riguarda il mio intervento, l'abbiamo ottenuto esclusivamente con le nostre forze, con il nostro capitale umano, con la nostra capacità di reagire. E poi a proposito di Anci approfitto della vostra presenza perché vorrei sottolineare un evento secondo me molto importante anche al punto di vista emozionale perché oggi è stata una seduta stamattina dedicata alle polizie locali sulla sicurezza urbana dove io, ovviamente organizzata da me e dall'Anci in base alla delega che ho sulla legalità e sulla sicurezza, c'è stato un momento perché per la prima volta c'è stato questo premio speciale che è stato dato ai familiari di Bruner 5 nel ricordo dell'eccidio di Secondigliano del 15 maggio. È stato un momento molto toccante perché c'erano comandanti polizie municipali di tutta Italia, c'erano insomma i vertici del Lanci, c'erano tante autorità istituzionali preposte alla sicurezza e alla repressione dei reati ed è venuto fuori appunto questo fatto che due poliziotti municipali di Napoli, un capitano e un luogotenente hanno dato la vita per cercare di salvare altre vite umane. Quindi questo è stato un bel gesto ed è bello che abbiano avuto una targa da Lanci, che c'è stato un riconoscimento nazionale ai massimi livelli, che sia stata una bella pagina anche per la polizia locale della nostra città. E rappresenta anche il comandante Esposito ovviamente e quindi questo lo volevo sottolineare che è stato un momento importante.